L'idea, diciamo, il simbolismo, noi sappiamo bene che appartiene al mondo delle religioni, no? La religione è simbolica, la realtà umana è poco simbolica. Quest'anno parla di acqua, il film parla unicamente dell'acqua e in qualche modo siamo collegati. In un feste non si presenta solo un film, anche, ma in un feste si ragiona, abbiamo fatto questo. Eccoci qua. Tutti sporti, tutti uguali, sembra giusto, no? Finalmente ci siamo, questa mattina nella sala verde, quindi adatta, visto che il tema di quest'anno di Gifoni è l'acqua. Non poteva mancare un progetto, un'idea, un programma che è stato sempre molto ambizioso nella sua esposizione. Mi riferisco al Bacio Azzurro, un film di Pino Tordiglione che ha fatto con grandi sacrifici, con grande amore e che l'hanno visto già decine di migliaia di ragazzi nelle scuole d'Italia. Ho voluto inserire stamattina il film nell'ambito di quello che è il progetto Green, appunto, di Gifoni, riservato alla Masterclass a questi ragazzi che per tutti questi dieci giorni svilupperanno un'intesa tra territorio, ambiente, natura, verranno le più importanti intelligenze, anche brand italiani, a discutere con loro. Ma ci sono anche tanti film. Quello che è il Bacio Azzurro si coniuga anche con i tanti film che Sky Natura presenta a Gifoni, con National Geographic, quindi è un progetto molto, molto forte. E ripeto, con piacere ho incontrato anche il figlio Enrico, che sta seguendo le orme di Pino. Il film è importante, importante perché appunto fa emergere la qualità, la quantità, la bellezza, la natura, anche perché un fiume attraversa territori, attraversa storie, attraversa... va nel mare, insomma ci sono tante cose incredibili che un fiume, un mare ti possano raccontare, noi di cui l'uno è l'altro, non parliamo solo più di violenza che l'uomo fa contro la natura, ma proprio di paura perfino perché nel futuro si possa continuare a vivere con l'acqua. Noi l'abbiamo totalmente inquinata. Se vedete dietro c'è questa ninfa che esce dal mare, ma non è molto serena, è molto arrabbiata con noi per quello che naturalmente l'uomo fa di disastri, plastica e di tutto e di più. Come se l'acqua fosse un bene illimitato, tutt'altro, è come se un patrimonio pubblico fosse privato, tutt'altro. Quindi con piacere, ripeto, abbiamo messo in programma la proiezione del bacio azzurro, faccio ancora un grande bocca al lupo a tutti voi, tutti quelli che in un modo o nell'altro hanno realizzato il film, ma anche nel ricordo, questo è ancora più forte, di Pino Tordiglione. L'educazione ambientale nelle scuole attraverso il cinema è fondamentale, perché il cinema coinvolge, il cinema racconta e è capace di informare in una maniera meno noiosa che non l'educazione vera e propria. Per cui è assolutamente importante continuare a produrre, girare film come il vostro, come il bacio azzurro, e continuare a informare i giovani, coinvolgendoli anche magari nei documentari, nei film, perché è una cosa assolutamente divertente. Questa è la prima volta che ho visto il bacio azzurro, è stato un film fantastico, poesia pura, mi sembrava il nuovo cinema paradiso dell'acqua, è veramente eccezionale, poi tra sogno e realtà. La cosa veramente importante è vedere anche che c'è un collegamento tra il nonno e il nipote, che veramente rappresenta un po' ciò che è stato, come era prima e come è diventato adesso, quindi è importante anche per i bambini di oggi, perché alla fine è una sorta di educazione che proprio manca, magari non in tutti, però in molti il problema dell'inquinamento, del malutilizzo dell'acqua, diciamo che discende anche da una cattiva educazione, quindi veramente ho apprezzato tanto il fatto di aver visto anche che nelle scuole venga portata questa cosa che è veramente ammirevole.